In una gioiosa celebrazione di cinque decenni di eccellenza musicale, la sede di Napoli dell'Associazione 50 e Più ha ospitato con successo un evento straordinario, segnando il cinquantesimo anniversario del classico senza tempo Champagne. Il leggendario cantante Peppino Di Capri, insieme ai compositori, sono stati i protagonisti dell'indimenticabile incontro che si è tenuto il 29 novembre scorso nell'ambito della serie di incontri denominati Il Valore dell'Esperienza. L'incontro è stato magistralmente moderato da Maurizio Merolla, presidente di 50 e Più, sede di Napoli, e dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa. Peppino Di Capri alla 50 e Più non è una novità ma è sempre una meraviglia, insomma, è dallo scrigno delle eccellenze napoletane a portare qui il testimone che nel mondo ha rappresentato la canzone italiana e napoletana portandola a livelli altissimi è qualcosa di meraviglioso. Con Peppino abbiamo un rapporto che ci lega, ci unisce anche per la manifestazione, l'evento nazionale Italian Canto, dove lui è stato per due volte in giuria e ci ha deliziati anche con delle sue performance. E adesso venire qui raccontarci i 50 anni della canzone Champagne insieme ai compagni di viaggio di questa meravigliosa canzone che ha segnato la storia di tantissime generazioni ma principalmente ha segnato anche la storia di quel modo di fare night, di quel modo di festeggiare, insomma ci portiamo tutti dentro un po' Cameriere Champagne e questo ci rende molto divertenti e anche molto contenti di celebrare l'anno prossimo i 50 anni dell'Associazione 50 e Più che nel 2024 avrà l'occasione per, mi auguro, aprire bottiglie di Champagne e celebrare insieme anche a Peppino questo bel momento. È vero pure che dobbiamo dirlo per gli amici, Peppino in questo momento era pronto per venire però le vicende legate a questo suo stato influenzale hanno per precauzione evitato che lui venisse qui, lo avremo in videoconferenza ma siamo contenti perché gli abbiamo strappato la promessa che è il premio e quello che noi diamo al valore dell'esperienza verrà a ritirarlo presso la nostra sede, il 15 dicembre lo ritroviamo qui. Peppino Di Capri che ritirerà il premio a dicembre nella sede di 50 e Più ha parlato del successo mondiale del brano, un vero champagne dannata. Un grande dispiacere è questo Covid, improvviso, ambivo molto a essere fra voi, comunque eccomi qua e appunto durante una canzonissima di tanti anni fa, quindi esattamente 50 anni fa e mi ha portato molto la fortuna di tutte le torre, soprattutto all'estero. Posso definirla una canzone giusta all'italiano, si usava in quell'epoca, mentre era la canzone che stesse bene sotto una determinata inquadratura e mi ricordo che il sorpasso e c'erano addirittura sette canzoni che suonavano da un giugosso, tra cui di sicuro ci sarà stata una canzone. Adesso qui la sala si sta riempiendo, facciamo sentire un applauso a Peppino? Però qui c'è il premio, c'è la targa, c'è la scultura che ti ha realizzato Maria Rosaria Petrungaro e che verrai a prendere alla 50 e Più. Ok. Ok, quindi ti aspettiamo qua. Il retroscena della nascita del testo e della musica di Champagno sono stati raccontati dagli autori del testo e della musica Mimmo di Francia e Depsa, ovvero Salvatore De Pasquale. Il testo vuol dire una storia d'amore proibito, in effetti, un amore che era un po' particolare, però lei si lascia andare per una sola sera e quindi succede che stanno insieme, poi dopo poi dopo lei si pente e lui rimane solo e ordina questo champagne per festeggiare la fine di un amore. Gli autori Mimmo di Francia, ma ci sono anche altri due colleghi. Sì, sì, ho fatto la musica, invece le parole le hanno fatte prevalentemente Depsa e Iodice. Come è nata poi questa canzone, in questo frangente diciamo? È nata perché Depsa, Salvatore De Pasquale, scrisse una frase sulla sua agenda che mi mostrò quando venne a casa mia, che diceva la frase per una coppa di champagne. Anche io dissi, ma facciamo una canzone intitolata soltanto champagne? E Depsa disse, sì, sì, va bene, ottima idea. E quindi io poi ideai la frase finale, cameriere champagne sul momento, e la suona il pianoforte, queste sei note, cameriere champagne. E quindi la canzone poi prese il via e poi dopo quando Iodice mi incitò a fare la musica la feci nel tassi, quindi cominciamo a lavorarci. Io avevo avuto il compito da Mimmo di cercare qualche idea di canzone per Canzonissima di Peppina. Dovevo fare questa canzone il 23 dicembre e a gennaio. Ho pensato a Capodanno, quindi ho pensato a qualcosa legato allo champagne. Quando poi mi sono visto con Mimmo, avevo scritto una coppa di champagne, e cercavo comunque l'idea era quella, e Mimmo mi disse, no, ma quella coppa, facciamo solo champagne, da là è nata tutto. Se ci può ricordare altri lavori firmati. Ho cominciato l'anno prima con una catena d'oro, scoperto da Mimmo di Francia, perché sono andato a bussare la porta alla Splash di Peppina di Capri, c'era Mimmo di Francia e da là abbiamo cominciato. E quindi poi champagne ovviamente è stato un grosso trampolino di lancia, perché poi sono andato a Milano, poi comunque alla fine, grazie a Dio, ho fatto 22 feste di Sanremo e poi sono passato in televisione, sono riuscito a vincere 9 delegati. Insomma è stata una carriera molto fortunata. Per commemorare il mezzo secolo di vita della canzone è stata presentata un'edizione speciale in vinile a tiratura limitata del 45 giri champagne. L'associazione si chiama 50 e più. Noi festeggiamo i 50 e più di champagne, perché il fatto che sia arrivato a 50 anni non significa che si ferma, perché champagne ha un destino incredibile. Scritta da Debsa Iodice di Francia, questa canzone non vinse canzonissima, non ha partecipato a Sanremo, non è arrivata prima in molti paesi in cui si pensava dovesse arrivare, eppure ad oggi è una delle dieci canzoni italiane più eseguite al mondo. Accanto a volare, quando quando, caruso, con te partirò. Sono veramente un manipolo di dieci brani e champagne svetta. Addirittura possiamo dire che champagne è in assoluto la canzone italiana più famosa in Sud America. È stata anche sigla di telenovelas, è stata cantata da Andrea Bocelli, da Roberto Carlos. Quindi incredibilmente dimostra il fatto che la forza di una canzone non ha bisogno necessariamente di vincere un festival. Presidente, un flash, lei ha in mano una riedizione importantissima di questo brano. Questo è il 45 Giri in vinile che Michelangelo ha portato perché verrà celebrato anche questo. Viene celebrato anche questo perché questo 45 Giri, che usciva esattamente 50 anni fa, novembre del 73, compie 50 anni. Quindi sull'etichetta di questa bottiglia di champagne c'è scritto 1973-2023-50 anni di champagne. È un'edizione limitata, in 100 esemplari, numerata, come vedete qui. E la cosa bella che voglio ricordare, questo lo si dimentica, ma questo è un caso unico nella storia della discografia, forse mondiale. È l'unico caso, in Italia certamente, in cui sul retro Peppino Di Capri volle le firme dei tre autori e compositori. Quindi è l'unico caso nella storia in cui si dà, come dire, importanza, rilievo ai tre papà di questa canzone. Quattro insieme a Peppino. Sono passati 50 anni, ma sembra ieri. L'incontro si è inserito nel contesto più ampio delle iniziative della 50 e più di Napoli, dal titolo 6 personaggi in cerca di incontro, il valore dell'esperienza.